L'Inps anticiperà il trattamento di cassa integrazione straordinaria ai lavoratori della società Teglat di Nereto. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale dopo che il direttore generale del Ministero del Lavoro ha firmato il decreto autorizzativo. Il provvedimento riguarderà i 45 dipendenti dello stabilimento, compresi dunque anche i dipendenti dell'altra unità produttiva di Corropoli. Dopo il tavolo che abbiamo fatto in regione mi sono attivato immediatamente con il Ministero perché l'azienda ha chiesto la cassa integrazione per i dipendenti, circa 45, ma non aveva la possibilità di anticipare questo trattamento. Quindi io mi sono attivato, sollecitato il Ministero affinché autorizzasse l'Inps ad anticipare queste somme. Grazie a questo intervento siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione, l'Inps anticiperà le somme, quindi fino ad aprile 2024 i dipendenti sono coperti da questa cassa integrazione. Dunque una notizia che va incontro alle richieste dei lavoratori della Teglat che da diversi mesi attendono il pagamento del dovuto. Questo stop nell'erogazione salariale stava generando non pochi problemi ai lavoratori, le cui famiglie sono le prime a pagare questi ritardi. Nel frattempo tramite il centro per l'impiego di Nerete che è quello competente metteremo in campo la serviziazione per cercare di riqualificare questo personale perché questa azienda si sta ristrutturando. Quindi farà nuove linee produttive e quindi nelle more cercheremo di formarli, qualificarli per poi rinserirli nel mondo del lavoro. Quindi ovviamente si pensa al futuro di questa azienda e non solo? Sì, in questo caso parliamo di Tegla, però siamo attenti a tutte le situazioni sul territorio. Voglio ricordare che questa azienda insiste sul territorio di Corropoli e Nereto, quindi nell'area Val Vibrata di cui abbiamo fatto la proroga per l'area di crisi complessa. Partiranno una serie di bandi sia a livello di sviluppo economico per l'acquisto di nuove strumentazioni, sia come politiche formative. Soprattutto partirà il nuovo FSE 2021-2027 in cui sono previste una serie di incentive all'assunzione di giovani, donne, disabili e over 50.